E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su One Piece Panty Rush Perché sì, come pronosticato, la nuova Xtreme è Akainu E ragazzi, ed è un personaggio che veramente non ha senso di esistere Ma andiamo prima a vedere il suo gameplay e dopo andiamo a fare un'analisi completa del PG Grazie a tutti Signori, questo è Akainu, è Akainu Extreme Ok, iniziamo con l'analisi completa del PG Magari adesso dal gameplay a voi, cioè, vederlo su due piedi vi sembra molto simile al vecchio Però fidatevi ragazzi, non ha nulla a che vedere perché veramente ho sentito commenti Ma è uguale al vecchio, uguale al vecchio Sì, l'animazione è praticamente uguale al vecchio ma il PG non ha, cioè, non ha, non ha senso Ragazzi, non ha senso, non ha senso Skill 1 Morso del fuoco scarlatto Attacco a lungo raggio che infligge knockback e infligge un nuovo status chiamato incenerimento Annulla lo stagger per un certo periodo di tempo e acquisisce una velocità al debuff a livello 5 Skill 2 Il personaggio entra in un mag mag status Ok, la meteora vulcanica è un attacco a medio raggio con chance di infliggere incenerimento E crea una camera magmatica, dove quando avete creato la vostra camera magmatica diventate invincibili per un certo periodo di tempo Quando siete nello status del magma, l'attacco è incrementato, il personaggio nullifica tutti i tipi di status Quindi quando lui, dopo aver attivato la skill 2, voi non lo potete né scioccare, né fare il recovery block Nulla di nulla, niente status per questo personaggio Quindi quando entrate magma status, voi siete veramente invincibili E gli attacchi normali possono fare 3 camere vulcaniche alla volta Quando le status del magma, magma ovviamente si rimuoverà dopo un certo periodo di tempo O dopo che il nemico ha preso un certo ammuntare di danni La camera magmatica eruterà quando il nemico ci si avvicina Oppure dopo un certo periodo di tempo Quindi chiaramente c'è, dopo un po' scompare la camera magmatica E chiaramente infligge un danno a raggio chiuso Con chance di infliggere incenerimento Ovviamente dopo che esplosa la camera L'effetto dell'incenimento svanita Tratti del personaggio Quando siete in magma status Possiamo doggiare o Non prendere danni per 3 volte Ovviamente quando si risetta il magma status Questo effetto si muove o si riattiva Annulla ovviamente lo status della flame e dell'incenimento Quando performi un perfect dodge Il personaggio Akaino metterà una camera magmatica Tratti numero 1 Quando attacchi un nemico Hai chance di infliggere incenerimento E incrementare il danno del 30% Quando infligge danni al nemico Con 70% dei tuoi HP Incrementa il cooldown del dodge nemico del 50% Dopo che è chilato nemico Riduce il tempo della skill 1 del 30% E si recupera gli HP del 15% Tratti numero 2 Quando un nemico è inflitto con l'incenimento Incrementa l'attacco del 10% E si può incrementare fino ad un 50% Chiaramente si risetta Dopo che il personaggio è stato chiuso Quindi si può arrivare a un incremento d'attacco Fino al 80% Dopo aver ricevuto danni da un nemico Con 50% dei tuoi massimi HP Riduce i danni del 30% Quando nel tuo team hai meno tesori assicurati Riduci la skill 2 del 50% E ti riduci anche il dodge del 50% Questo signori è Akaino Cosa dire? Cosa dire? Veramente ragazzi per me è veramente un qualcosa di sgravo Kill nel nemico Ti recuperi pure gli HP Se hai bisogno del knockback Vai di skill 1 E di attacco a lungo raggio Quindi ti prendi insomma Non è extra long rage Tipo extra long rage è l'attacco di house Un po' zero Long rage è un lungo raggio normale Però è effetto knockback Praticamente lui ad ogni colpo Ti infligge lo status di incenerimento Cioè è un qualcosa di sgravo Chiaramente questo incenerimento è un nuovo status Chiaramente E praticamente Cioè quando sei in questo magma status Con voi con questo personaggio Avete in mano la partita Cioè avete letteralmente in mano la partita Perché quando voi siete Cioè quindi voi praticamente La prima cosa che dovete fare con Akaino È attivare la skill 2 Così entrate subito in magma status E non potete non ricevere anche gli status degli avversari Quindi se voi siete magma status Il recovery block non può farvi nulla Nulla Ma proprio nulla E chiaramente Create anche queste camere magmatiche Dove infliggerete Ulteriori danni al nemico Raga Davvero Cioè per me è veramente un fuoco Cioè è sgravo È sgravo È troppo sgravo Poi cos'è che volevo Su quale punto volevo soffermarmi Ah Si riduce pure il dodge del 50% Quando avete tesori meno assicurati Cioè oh raga È quel PG Che veramente prende la partita in mano E sicuramente State tranquilli Che vi countera Roger Oden Poi veramente Oden Esplode Ma esplode Veramente Veramente male Da questo PG Non ha so Ovviamente Non potete infliggerli A Flavie In cenelimento Chiaro Questa cosa delle camere magmatiche È tanta roba È tanta roba Perché chiaramente Praticamente Se incontrerete Tanti cani in partita Vi troverete in mezzo A delle camere magmatiche Quindi sicuramente Prenderete ulteriori Danni Aggiuntivi Poi sta cosa Che quando entri in magma status Tre danni Cioè tre colpi del nemico Non vi fanno nulla È un qualcosa Di veramente Cioè Ragazzi Siete invincibili Siete praticamente Invincibili Io adesso spero Veramente Che quando Va con il team boost Non si recupera gli HP Perché se questo PG Col team boost Si refulla gli HP È il colmo Già è troppo rotto così Se si recupera pur gli HP Ragazzi È finita È finita C'è Troppo 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 Oltre Adesso praticamente Vedremo un meta Pieno di gente Che userà Akaino Erogeno Nel stesso team Akaino Kid Akaino Aso Mamma mia Sarà qualcosa di cancerogeno A livelli esageratissimi Però vabbè ragazzi Cosa possiamo farci Questo è gioco Chiaramente Gli extreme ne fanno parte E quindi giustamente Usciranno Sempre di più rotte Era palese Signori Questa è l'analisi Completa di Akaino Grande ammiraglio Io spero che questo video Vi sia piaciuto Nel caso Io vi invito a lasciare un like Iscrivervi al canale Attivare la campanella Delle notifiche Per non perdervi Nessun video Anche perché domani Ho intenzione di fare uscire Un piccolo video pool Chiaramente Non ho intenzione Di arrivare Nel senso Non voglio questo PG Per forza Quindi io vi porto Che ne so A quel giro Step up Da 250 gemme Per dire Giusto per sfizio Per portare il contenuto Sul canale Ma poi mi fermo Perché comunque È un PG Che non mi piace E quindi Che sicuramente Non rientra Nei miei gusti Da giocare Chiaramente Se voi cercate Chiaramente Se voi cercate Il PG rotto Che Fa Fa i culi In campo Allora Questo è il personaggio Che fa per voi Quindi Pullate senza Pensieri Vi ricordo anche Il link In descrizione Del vari gruppi Telegram Del canale News Dove pubblichiamo Tutte le novità Su One Piece Bounty Rush In tempo reale Leaks Informazioni Data Mining Tutto raga Tutto 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 Quindi Mi raccomando Fateci un salto E noi signori Ci vediamo Con un prossimo video E si Akainu Lo ribadisco Per l'enemisima volta Akainu È troppo sgravo